Per il prolungamento della metropolitana fino a Monza arriva un ulteriore finanziamento di 15 milioni di euro, ma il cronoprogramma dei lavori slitta ancora. Ad annunciare le due novità riguardo l'arrivo della M5 nel capoluogo Brianzolo è stata l'assessore alle infrastrutture e opere pubbliche di Regione Lombardia Claudia Maria Terzi. La Giunta regionale ha infatti approvato lo schema di atto modificativo della Convenzione tra Regione Lombardia, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Comune di Milano, che regola il cofinanziamento statale dell'opera. La delibera in particolare recepisce l'incremento della quota di finanziamento statale pari a 15 milioni di euro, facendo salire il totale delle risorse indirizzate alla realizzazione del prolungamento a 1.296 milioni di euro. Sempre secondo quanto riportato da Terzi, però, i lavori per la realizzazione dell'opera saranno avviati a fine 2024 e termineranno nel 2031. Gli impegni vincolanti che si sarebbero dovuti firmare entro il 31 dicembre 2022, spiega l'assessore regionale, saranno infatti sottoscritti entro la fine del 2024, in quanto il Comune di Milano ha ottenuto da Roma una proroga di due anni. Di conseguenza l'avvio dell'esercizio slitterà di due anni. Ringrazio il Governo e in particolare il Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, per aver incrementato le risorse. Quest'ulteriore sforzo consentirà di realizzare un'infrastruttura fondamentale che stenderà la linea a nord di Milano, nel territorio dei Comuni di Cinisello, Balsame e Monza, toccando nella prima parte del tracciato anche Sesto San Giovanni, conclude Terzi.